Domenica 31 dicembre, festa della Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe. Ogni anno la domenica che cade tra il 25 dicembre e il 1 gennaio è dedicata alla Santa Famiglia, a questo quadretto familiare che noi possiamo contemplare guardando il presepe. Anche stavolta dobbiamo prendere il Vangelo da Luca, che è quello insieme a Matteo, ma è Luca che soprattutto ci racconta i fatti della nascita e ciò che è seguito immediatamente. E Luca riporta anche la pagina che ascolteremo oggi della Santa Famiglia che si reca, il bambino è nato a Betleme, si reca a Gerusalemme al Tempio per compiere la legge. Luca viene dal paganesimo, però è affascinato sia dalla legge ebraica sia dalle sue istituzioni, il Tempio compreso. E allora ricorda come adeguandosi a ciò che prescriveva la legge, la famiglia deve andare a riscattare il primo genito. Questo ci ricorda che la vita è dono di Dio, ogni bambino che nasce è dono suo, non appartiene ai genitori, è un gesto di restituzione, si restituisce a Dio ciò che di Dio è. Allo stesso tempo anche questo avvenimento viene chiamato la presentazione. E Gesù che è nato a Betleme si presenta a Dio suo padre nel luogo santo del Tempio e gli dice eccomi, ecco mio padre, sono qui, sono pronto a compiere la tua volontà. I genitori capiscono più o meno quello che succede. Ma ci sono altre figure belle che emergono da questo brano. Il vecchio Simeone è la profetessa Anna, in fondo è lo spirito che anima tutti i protagonisti del Vangelo dell'infanzia di Gesù. E lo spirito rivela a questa anziana donna che è arrivato il Messia, così lo rivela al vecchio Simeone che stringendo il bambino tra le braccia loda Dio e gli dice ora puoi anche permettere che io finisca la mia vita perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Mi pare un atteggiamento molto bello suggerito a noi cristiani e a tutta la Chiesa. Ecco che bello se ogni sera, tra l'altro ripetendo questa preghiera e l'ultima della giornata, potessimo dire noi oggi, o Dio, abbiamo visto la tua salvezza, quella che hai preparata per noi ma per tutti, davanti a tutti i popoli. Oggi è brillata la tua luce che è Gesù anche nella mia vita, anche nella vita del mondo in cui abito. Ecco che possiamo con questi atteggiamenti animati dallo spirito concludere bene l'anno perché di nuovo stasera forse sarà più facile celebrare e ringraziare per il dono del tempo che si conclude e disporci a cominciare una pagina nuova e speriamo di farlo sotto l'augurio della pace, quella che così tanto fatichiamo a costruire ma che accogliamo come dono dalle mani di quel bambino che possiamo stringere tra le nostre braccia.